Sogno o sondesta? Stiamo assistendo davvero a camerieri giornalistici, Scribacchini e Lacchè che stanno cercando di spiegarci che cos'è il giornalismo denigrando uno dei simboli del giornalismo per eccellenza? Su questo canale, al di là della calata romana, non siamo mai stati volgari. Perché volete che io cominci proprio adesso? In questa trasmissione nessuno ha mai bestemmiato. Tu arrivi e ci costringi a cambiare questa bellissima abitudine. Ma certo, è ovvio. Come può gente che non sa che cosa sia il giornalismo riconoscere un giornalista quando lo vede? È impossibile, dai. Perché se oggi volessimo tracciare l'identikit dei detrattori di Assange che si stanno scatenando dappertutto, i parametri sono i Sallusti, il fio dei Sallusti, il capezzone wannabe e gli Stefano Feltri. E mica solo la stampa nostra, è pure quella estera, tipo il Telegraph. E questo già sarebbe abbastanza per dire ho concluso vostro onore. E così a seguito della notizia della liberazione di Assange, eccoli che vengono fuori i goblin degli acquitrini carichi di livore a spiegarci che cos'è il giornalismo, loro che giornalisti non lo sono manco quando ci si vestono a carnevale. E così come un po' di tempo fa si sparticano a spiegarci perché Assange non è un eroe. Un po' di tempo fa, vi ricordate, ci spiegavano che Assange non era come Navalny, perché dovevano dirci, vedete, le autocrazie uccidono. Le democrazie invece che vuoi che sia, al massimo ti perseguitano. Te l'avano 14 anni di vita. Ti condannano a 200 ergastoli se te va bene, eh. Perché se te andava male, potevi pure finì in qualche stato dove c'è ancora la pena di morte. Vuoi mette? Per ammazzarti l'Occidente ha sviluppato tutta una serie di tecniche. E mica solo quella fisica, sembra una civiltà erudita noi, mica come l'Izulu. E in effetti hanno ragione, Assange non è come Navalny, basterebbe anche solo perché non l'abbiamo mai visto sfilare apparate neonaziste, per dirne una. E così ci spiegano di come pubblicare documenti secretati sia indice non di giornalismo, di criminalità. 26 giugno 2024 scopriamo che denunciare i crimini di guerra, guerra in corso, non è da giornalisti ma è da criminali. Che il criminale non è chi il crimine lo commette, ma quelli che lo fanno vedere. Ma quant'è bella la mafia! E chi ce le dice ste perle? I prototipi del giornalismo alla capezzone. Indimenticabile quando scrisse il pamphlet contro Assange, oltre Assange, con l'unico intento di usarlo come parametro per correre in difesa dell'allora presidente del Consiglio Berlusconi. Per dirci quanto sia ignobile pubblicare i segretucci di quando li beccano corsorcio in bocca. Guardate che l'identikit dei detrattori di Assange oggi è questo. Liberalini che gridano agli scandali della magistratura solo quando beccano con le mani nella marmellata gli amichetti loro ideologici, genericamente repellenti alle intercettazioni, pronti ad urlare alla magistratura politicizzata quando delinquono i loro, ma che vorrebbero la testa sul vassoio di tutti i loro oppositori politici anche solo per una multa non pagata. Garantisti con gli amici e con quelli che devono proteggere, ma con la ghigliottina pronta per tutti i nemici. Simbolo di quella cultura per cui andare in giro con la camicia firmata è il meglio del meglio, solo perché sono stati cagati qui. So questi, eh. A mandarli in tilt è il fatto che possa esistere qualcuno che possa mostrare al mondo che il loro grande occidente sia capace di cose ben peggiori di quelli corturbante che odiano tanto. Perché fidatevi che se Assange, anziché pubblicare i crimini di guerra compiuti dagli americani in Afghanistan, avesse pubblicato documenti secretati di quelli che loro definiscono beduini, eh, Assange era da premio Pulitzer subito! Invece no. Per loro 5 anni a Belmarsh, 10 anni di persecuzione giudiziaria, dopo che hanno provato anche a incastrarlo con accuse di stupro inventate di sana pianta. Eh, per i liberalini non è abbastanza per definirlo un po' too much. Eh, per loro ha patteggiato e quindi è golbevole! Eh certo, perché noi siamo quel paese dove per essere preso sul serio devi essere morto. E se ad Assange possiamo recriminargli di non essere stato quell'eroe dei fumetti pronto all'estremo sacrificio, ma di aver ragionato da uomo acconsentendo a dichiararsi colpevole per porre fine ad una persecuzione? Persecuzione che, ricordiamocelo perché è importante ricordarlo, lo avviene semplicemente perché ha mostrato al mondo che quel ketchup sugli hot dog del sogno americano in realtà era il sangue dei civili e di popoli innocenti. Eh, non sei stato abbastanza eroe, Assange! E' essere un vero eroe o dovevi marci in galera o dovevi essere morto! Così chissà, magari ti avrebbero detto che eri meno ladro! Beh, mi ricordo che anche con Falcone abbiamo fatto una cosa simile. Eh, Falcone voleva fare la scalata, voleva andare in televisione. Se facesse veramente bene il suo lavoro, lo ucciderebbero, diceva nei tempi. I martiri in vita noi non ce li possiamo avere, sempre dopo morti. Dopo tutti a batte serpetto, prima a buttare a merda addosso. Quindi no, Assange non è un eroe. Perché per loro il giornalismo è scrivere solo quello che l'editore gli detta. Il giornalista non indaga per loro, il giornalista non imbarazza. Se possibile il giornalista manca domande fa. Per loro il giornalista fa solo i salotti e l'editoriolino la mattina. E poi se lamentano che il giornalismo è morto. E te credo. E questo semplicemente perché se ce l'avessero avuto in mano loro quei documenti, state tranquilli che le palle di pubblicarli non ce l'avrebbero avute mai. Quella che parla è certamente gente che non sarebbe stata disposta a rinunciare a danni della sua vita nel nome della verità. Perché a questi, se la verità non gli porta guadagno, la puoi tranquillamente omette. Le uniche verità che pubblicano sono quelle o ben ricompensate. Le loro inchieste sono quelle contro gli ultimi, contro quelli che non contano un cazzo. De certo mai contro i potenti. E se qualche volta è contro qualche potente, è semplicemente per fare il favore a un altro potente. Quello che gli paga lo stipendio. L'assaggio è colpevole perché si è dichiarato colpevole, dicono loro. E io dico che magari ce ne fossero mille, anche solo cento, capaci di dichiararsi colpevoli di fronte a certe cose. Perché se per il vostro modo di concepire il mondo è più criminale chi i crimini li documenta, piuttosto che i criminali in sé, beh allora sì, Assange è colpevole per questo vostro sporco mondo. E magari fossimo tutti capaci di dichiararci colpevoli come lui. Perché quelli che oggi stanno denigrando Assange sono quelli che soffrono il paragone, è evidente. Sono proprio quelli che tremano all'idea che possa uscire qualcosa dal fondo dei più oscuri cassetti. Che temono che esistano rompicoglioni in grado di mettere luce laddove loro vogliono tenere al buio. Terrorizzati che se vada a scavà perché so conniventi. E se fosse per gente come loro ad esempio noi non avremmo mai scoperto che cos'era la mafia. Se non ci fossero stati degli scassaminchia come Assange, noi non avremmo saputo un sacco di cose su alcune delle pagine più importanti della storia. E il mio pensiero va a tutti gli Assange del mondo. A Giancarlo Siani, assassinato dalla Camorra perché parlava troppo dei rapporti della Camorra e la gestione dei comuni. Parlava troppo degli intrecci da politica e criminalità. Quella roba che no, non la trovi di certo nei documenti ufficiali. Penso a Mario Francese, ucciso dalla mafia perché indagava sugli appalti, subappalti, le forniture di cemento, oltre che sull'ascesa dei Corleonesi, con nomi, cognomi e ranghi dell'organizzazione. Anche quello scavando nei cassetti e nelle cose segrete di cui qualcuno ha tanta paura. Penso a Shirina Boakle, che lavorava come corrispondente di Al Jazeera, uccisa facendo finta di averla scambiata per una terrorista, semplicemente perché era un occhio sui crimini perpetuati dall'occupazione israeliana, lo stato più democratico del Medio Oriente. Perché non si deve far vedere che le democrazie non sono poi così diverse da quelli che odiamo? Penso a Gonzalo Lira, morto nelle carceri ucraine, incarcerato senza processo per generiche attività filorusse, morto di polmonite, volutamente lasciato a morire senza che i suoi carcerieri si occupassero della sua condizione di salute. Altra sbandierata democrazia per cui ci battiamo e che stiamo preparandoci ad abbracciare. E la lista dei vari Assange del mondo è lunghissima, piena ad esempi di gente che è corrotta e terrorizzata dalla verità, De Certo non potrà mai capire. Non è mica colpa di Assange se siete dei serbi. E piuttosto che domandarvi se lui sia o no un eroe, domandatevi se voi siete o no degli schiavi. Volete sapere perché ci innamoriamo di Assange? Perché ci innamoriamo di chi ha il coraggio di far venire fuori le cose che vengono nascoste. Ci innamoriamo di Assange perché ci innamoriamo degli ultimi, degli oppressi, di quelli che abbiamo distrutto con le nostre bombe democratiche, dal Vietnam all'Afghanistan fino all'odierna Palestina. Ci innamoriamo di Assange perché grazie a uomini come lui, come gli esempi che abbiamo citato prima, come Simu Rersh con il massacro di Milai, perché è grazie a loro che troviamo quel minimo di coraggio per andare contro a quello che ci conviene fare, per abbracciare quello che è giusto fare. E perché se non ci fossero stati loro oggi ci staremmo bevendo tra le tante farlocche narrazioni, quella ad esempio che a Gaza stanno morendo solo i terroristi. Ci innamoriamo di Assange perché ci dà la speranza che il giornalismo non sia integralmente leccaculo come invece altri esempi dimostrano. E magari perché ci impone a riflessioni un pochino più profonde del oh abbiamo il McDonald's, dobbiamo essere per forza i buoni del pianeta. Ci innamoriamo di Assange perché è infinitamente diverso da voi. E avvicinandoci un pochino a lui pure noi ci sentiamo diversi da voi. Ci innamoriamo di Assange e continueremo ad innamorarci di tutti quelli come lui. Mentre voi continuerete a non avvicinarvi a quel parametro nemmeno un pochino. Assange è libero, voi no. Stateci.